I mezzi di santità e di salute eterna sono comuni a tutti gli uomini? I quali negli scritti apostolici sono detti santi, perciò l'unione e partecipazione loro a quei mezzi è comunione di santi in cose sante. La Chiesa è come l'Arca di Noè, tutti gli uomini possono trovarvi i mezzi o vie di salvezza del peccato e dalla morte eterna, come nell'Arca si salvarono dalle acque tutti quelli che vi erano entrati. Ma per poter trovare salvezza nella Chiesa occorre prima di tutto entrarvi a farne parte. Non trova i mezzi chi ne sta fuori, né arriva alla meta chi non va per la via. Tutti i membri della Chiesa hanno diritto agli stessi mezzi di salvezza e di santità, perché tutti possono godere dei frutti del battesimo che hanno ricevuto, partecipare alla stessa fete, agli stessi sacramenti, offrire lo stesso sacrificio e ricevere i frutti della preghiera, del consiglio e del buon esempio. L'unione, la comunianza dei beni e di mezzi di santità e di salvezza eterna si chiama comunione dei santi. I fedeli che si trovano nella Chiesa sono detti santi perché consacrati a Dio, giustificati o santificati dai sacramenti e obbligati a vivere da santi. I fedeli che si trovano nella Chiesa sono detti santi perché consacrati a Dio. La benedizione dei sacerdoti e la consacrazione del vescovo rendono sante le cose benedette e consacrate, che perciò vengono sottrate all'uso profano e riservate a quello sacro. I vasi consacrati o benedetti possono essere usati solo per consacrare, conservare e contenere le Eucaristie. Calice, patena, piscide o stensorio. I cristiani nel battesimo sono stati consacrati non solo con una semplice benedizione o un rito di consacrazione sacramentale, ma con un sacramento e sono stati sottrati al potere del demonio, fatti figli e possesso di Dio, fratelli di Cristo, templi dello Spirito Santo. Perciò il cristiano è molto più sacro e santo di qualsiasi cosa benedetta o consacrata. Nell'uso corrente, però, si adopera la parola santo per indicare che i cristiani che in vita hanno praticato la virtù in grado eroico, che dopo morte hanno ricevuto la conferma della loro santità da parte di Dio con i miracoli operati per la loro intercessione e sono stati solennemente canonizzati dalla Chiesa e proposti come i nostri modelli e protettori. Secondo, giustificati e santificati dai sacramenti. Il battesimo e la penitenza danno la prima grazia santificante. La china è privo. Gli altri sacramenti accrescono la grazia santificante e quindi la nostra giustizia o santità. Terzo, è obbligati a vivere da santi. Tutti i battezzati sono obbligati a vivere da santi e a osservare in modo perfetto la legge divina. Gesù Cristo, infatti, ha indicato come mette e modello di santità per ciascuno di noi la santità e la perfezione del Padre Celeste. E chiunque crede fermamente alla verità rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa, osserva la legge divina, fa uso frequente e devolta ai mezzi di grazia, raggiunge la santità vera e propria con la pratica eroica delle virtù.